Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video! Parliamo di Helldivers 2 di nuovo, non è passato neanche un giorno da quando ho fatto quel video in cui c'erano i rumors sulle cose future che arriveranno, è arrivato un super leak proprio fisico sui mecha. Si sapeva che erano in sviluppo, si sapeva che già c'erano probabilmente nel gioco, anche perché erano stati visti dentro un trailer, ma adesso, sorpresa delle sorprese, è arrivato proprio il leak fisico, cioè qualcuno ha fatto trappalare un video in cui gli sviluppatori stanno giocando col Mac e quindi l'abbiamo visto per pochi secondi. Probabilmente uno sviluppatore che sta testando appunto diciamo così il gioco con il Mac, sono veramente una decina di secondi, però come vedete eccoli lì, esattamente come erano nei trailer. Ci entriamo dentro, cominciamo a sparare, spacchiamo tutto e insomma giochiamo col Mac. Poi in questo video fanno il riferimento anche ai vecchi Mac di Helldivers 1 ovviamente. E quindi figata, cioè praticamente abbiamo finalmente una prova provata di una delle cose che arriverà in futuro. Come detto anche nel video presente, questo gioco sta avendo un successo pazzesco, record incredibili, i server comunque si sono stabilizzati e quindi cominceranno sicuramente a buttare fuori anche nuovi contenuti. Per quanto riguarda specificatamente questa questione dei Mac, da quanto hanno detto anche gli sviluppatori, praticamente sono pronti e già erano pronti anche nel momento in cui è lanciato il gioco. Il problema è che le devono fare un pochino ancora di polishing e poi chiaramente ci sono stati tutti questi problemi di server e quindi si sono dedicati al 100% a risolvere le questioni server piuttosto che pensare a fare e buttare fuori nuovi contenuti. Prima aspettano che la stabilità del gioco sia perfetta in modo che poi quando butteranno fuori cose nuove tutto dovrà funzionare ad hoc. Comunque questi Mac sembrano veramente una figata, ecco spero anche che si potranno un pochino personalizzare, magari poter cambiare le armi delle braccia, non solo mitragliatrici, magari anche dei laser o dei gatling o dei lanciamissili. Spero che sia possibile fare una cosa di questo tipo. Poi bisognerà vedere anche a che livello si potranno sbloccare perché magari c'è bisogno del livello 20 o magari ci danno subito, chi lo sa. Magari ci saranno degli extra potenziamenti della nave per potergli aggiungere cose in più, oppure magari quelli saranno solamente per abilità passive, danno oppure velocità di chiamata, drop in e cose di questo tipo. Comunque sono molto contento di aver visto questo video anche se è liccato perché vuol dire che comunque siamo estremamente vicini al rilascio di questo nuovo contenuto. Io posso fare una ipotesi, credo che entro la fine di marzo potremmo già vederli secondo me. Credo sia una previsione plausibile. Tra l'altro hanno anche dataminato l'ultima patch che è uscita e hanno letteralmente confermato che dentro il datamine ci sono gli illuminati. Anche questo l'avevo citato nell'ultimo video, ma adesso praticamente è detto il datamine. E hanno dataminato anche una marea di stratagemmi nuovi, tipo più di 20, tra i quali ci sono dei nuke, almeno c'è scritto così nel datamine, e tante altre cose come drop off combat walker, displacement of backpack, displacement of cure, mini missili, cover, e tante altre cose fighe. Anche armi, volendo, ci sono dei datamin su questo, jet rifle, plasma rifle, laser rifle, laser guided missile launcher, double barrel shotgun, e cose di questo tipo. Quindi insomma è evidente che comunque vedremo cose nuove, anche perché col prossimo Warbound sicuramente ci saranno anche armi nuove. Insomma sembra un radioso futuro per Helldivers 2 che sta piacendo così tante persone, così tanto giocato. La community è abbastanza buona, anche se ci sono stati dei rigurgiti di tossicità qua e là, riguardanti soprattutto alcuni che spammavano quelle missioni di difesa, abbandonando dopo una sola missione solo per expare più velocemente. Oppure alcuni che livellavano così, brainless, facendo queste cose, che poi arrivati anche a livelli 20-30 in realtà non sapevano giocare dal gioco e cominciavano anche a fare team kill per rubare le risorse degli altri perché manco sapevano che erano tutte condivise in co-op o cose di questo tipo. Sono usciuti alcuni articoli un po' così su questa sorta di tossicità, ma in generale a me sembra in realtà che la community sia abbastanza coesa e una delle meno tossiche riguardanti i giochi multiplayer in generale nell'era moderna. Comunque ragazzi, principalmente questo video ve l'avevo fatto per farvi vedere un attimino qua a sti mech effettivamente che arriveranno in gioco a breve. Fatemi sapere cosa ne pensate, siete eccitati come me? Siete pronti a distribuire un po' di democrazia anche sotto forma di missili e di mech buttati dal cielo tipo Titanfall? Tra l'altro quei Titanfall che giochi meravigliosi, soprattutto il 2, giochi purtroppo poco giocati, poco considerati. Comunque fatemi sapere quello che pensate sotto nei commenti e ne discutiamo. Noi ci becchiamo prossimamente comunque sempre qui per altri video sul gaming. Grazie per l'attenzione, statevi sempre bene ragazzi, alla prossima, ciao ciao!